E' tornata in Puglia Missione Salute per prestazioni sanitarie gratuite effettuate all'interno di ambulatori mobili delle Misericordie. Il progetto ideato dalla Confederazione Nazionale si avvale della collaborazione delle confraternite locali e in questo caso del coordinamento della sala operativa di aree emergenze della Federazione delle Misericordie di Puglia. Nel corso di Missione Salute vengono offerti gratuitamente controlli cardiologici, dermatologici, oltre ad ecografia alla tiroide, controllo di glicemia, pressione, saturazione ma anche informazione ed assistenza e diversi altri test. Vede questa Missione Salute girovagare, quindi girare per le varie piazze d'Italia per portare quelle che sono le visite specialistiche nelle piazze, soprattutto a gente che non può permettersi una visita. Nello scorso weekend gli ambulatori mobili delle Misericordie hanno fatto tappa a Molfetta dove sono stati oltre una sessantina i cittadini molfettesi che si sono sottoposti a visite specialistiche gratuite. Poi è stata la volta di Canosa con una due giorni intensa con il patrocino del comune Canosino e la collaborazione del Rotary Club locale del coordinamento 118 batto oltre alla Frateres sezione di Canosa. Quasi un centinaio nel complesso le visite effettuate. L'occasione è stata propizia anche per rinsaldare la rete istituzionale al servizio dei cittadini e rilanciare la possibilità di costituire il progetto di una Canosa cardioprotetta. Un'iniziativa che vede la possibilità di poter installare dei defibrillatori e quindi formare contestualmente anche come emergenza urgenza come 118 un numero importante di personale quindi laico affinché si possa quindi rispondere all'emergenza più importante sul territorio che appunto è l'arresto cardiaco. Normalmente il cittadino si reca con tutte le problematiche che conosciamo presso i presidi sanitari per chiedere salute e qui invece questo è un po' il contrario cioè è il servizio salute che si avvicina al cittadino e lo incontra e soprattutto lo incontra i cittadini quelli più fragili, quelli che hanno più difficoltà e bisogno. La carovarana di missione salute poi si sposterà ad Andria venerdì 27 e sabato 28 settembre con appuntamento in piazza Vittorio Emanuele II già a piazza Catuma nel cuore del centro storico cittadino. L'evento si avvarrà della collaborazione del Calcit con cui la misericordia attiva all'interno del proprio ambulatorio solidale stabile noi con voi ad Andria e saranno propri medici dell'ambulatorio a garantire ulteriori importanti servizi ai cittadini. Le visite saranno in piazza in entrambi i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.